Roma-Real Betis finisce con 1-2 in favore per Betis. La partita si è disputata ieri sera dalle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Ovviamente Real Betis ha giocato in casa della Roma e vince con un bel 2-1. Una partita bellissima anche se negativo devo essere sincero che la Roma non ha preparato benissimo la partita però ha fatto una grande partita anche se non ha giocato molto bene mentre Real Betis ha vinto meritatamente facendo due gol. La Roma passa in vantaggio con Paolo Di Balla alla 34esimo minuto con un calcio di rigore però purtroppo Real Betis pareggia con Guido Rodriguez al 40esimo minuto e fa 1-1 fra Roma e Real Betis. Poi nel secondo tempo segna Luis Enrique all'88esimo minuto e porta in vantaggio Real Betis. Poi espulso Niccolò Zaniolo al 90esimo minuto. Finisce così la partita. Real Betis si porta a casa 3 punti che si porta prima in classifica nel girone con 9 punti e la Roma sta terza in classifica con 3 punti. Ragazzi una partita Ragazzi una partita scandalosa per la Roma e niente ragazzi il video finisce qua un salutone e alla prossima.